ci sei? illuminami eh illuminami d'immenso per un cazzo Mario che illumino solo a te eh non si vede è grass? ma è risombato eh è risombato? è risombato palming palming eccolo eccolo oh ma che? hai avuto paura giustamente eh perchè? perchè devi mettere la funzione su ma che cazzo dici? ma che cazzo dici? ehi 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 peccato il fisico fantoziano e lo vede bene da lato che si vede la pancia bravo facciamo una foto? si se riusciamo a fare il riso c'è da operare lascialo in acqua io stoppo eh no 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 perché non vogliamo fare una foto da serra sott'acqua ecco lascialo un po' vedi un po' se parte eh sta bello stressare eh quanto ci hai messo? un quarto d'ora? la bocca è gialla eh è gialla pure la coda lascia vedi se parte no no ciao ragazzi see you later I'll be good